Il 2-0 a Faella, Fornito adesso, rientra sul sinistro e calcia Fornito! Che gol! Giuseppe Fornito ha pescato il jolly al ventesimo della ripresa mettendo il punto esclamativo su una prestazione maiuscola della Gelbison il graffio del capitano Fornito che fa 3-0 un golasso di Fornito dalla distanza con un mancino che non ha lasciato scampo a Gianmarco Mannucchi, una rete bellissima da parte del capitano della Gelbison e Tris per la squadra di casa Ci aveva provato già nel qualche minuto fa con una soluzione che non aveva trovato lo spegno della porta